sono in diretta buonasera a tutti sono tornato alla mia vecchia postazione perché i miei vicini sembrano sembrano non esserci quindi potrò finalmente non avere urla per tutto il tempo se tutto va bene poi non prometto niente mi tocca fare una premessa anche questa volta perché il tema devo ammettere di questa giornata è stata una domanda che sinceramente non mi sarei aspettato e ora ve la sto cercando qui nel mio bel elenco di domande che se la trovo se no ok no non è questa la domanda che ho ricevuto ma 5 6 domande sempre sul stesso argomento come alleno il vasto mediale come esercizi per concentrarsi sul vasto mediale e non posso fare a meno di chiedermi cosa ve ne fa scusa stavo leggendo non capisco scusate stavo non posso fare a meno di chiedermi cosa ve ne fate di avere un vasto mediale forte cioè ci sono patologie per cui occorre magari rinforzare in generale proprio quel capo però non si può rinforzare solo quel capo di muscolo cioè che come si fa a fare solo vasto mediale cioè per forza di cose il quadricipite o si contrae tutto o non si contrae cioè non esiste uno che ha solo un vasto mediale sviluppatissimo e altri parte del ciao non esiste chi ha un vasto sviluppato e basta quindi quale esercizio sviluppa il vasto mediale quello che sviluppa anche tutti gli altri capi cioè ha poco senso andare a cercare un esercizio che vada un capo piuttosto che in altri cioè non è che c'è l'esercizio solo per il capo lungo del bicipite solo per il capo breve eccetera quindi meno preoccupazioni di questo tipo a meno che veramente non si abbiano patologie particolari perché è veramente tempo buttato tempo che si può spendere facendo del sano squat buttato quindi meno vasto mediale più squat al massimo presse di vario tipo ma decisamente non mi preoccuperei di andare a sollecitare un capo di un muscolo come tra l'altro il quadricipite che ne ha quattro piuttosto che che altro dunque oggi un sacco di domande alcune addirittura mi hanno scritto in privato non hai risposto alla mia domanda grazie grazie ne avrò ricevute non sono abituato a tutte queste domande perché di solito le facevo sul mio altro profilo dove ho 5.000 circa persone qui siamo a 18.000 quindi le domande erano un pochino tante oggi e non sono riuscite a rispondere a tutte quindi abbiate pietà perdonatevi se avete delle domande fatemele pure che vedo di rispondere se no ripesco intanto ne ho visto una su allora sono tornati i miei vicini tranquilli mi spiace ci ho provato a fare la diretta di qua ma sono inesorabili dunque 5x5 lo posteresti fino a 85% dopo un 5x5 80 dunque un 5x5 in teoria va portato fin dove tu riesci a portarlo quindi non a meno che non te lo programmi prima ovviamente di solito programmi di questo tipo vanno portati su semplicemente fin dove fin dove riesci quindi 5x5 80 se lo chiudi vai su 82 e mezzo non c'è un 82 e mezzo 85 riesci a chiudere 87 cioè volendo puoi arrivare anche al 100% se sei particolarmente dotato o dopato quindi non stare a preoccuparti di fino a dove arrivare è l'allenamento stesso che ti dice dove arrivare chi ha presenza tutte palestre chiuse lo so ragazzi purtroppo siamo tutti sulla stessa brutta barca stamattina per dire ci lamentiamo tanto dell'italia però vedevo di arnold che ha rimandato l'arnold sport sport festival quindi è un po' merda da tutte le parti non è non è una cosa solo di qua quindi purtroppo si fa quel che si può ho visto una domanda che mi ha fatto triggerare mentre la leggevo tempo di recupero dopo il sovralenamento allora se sei davvero sovralenato ti ci vogliono mesi e mesi così come ci sono voluti mesi e mesi per sovralenarti cosa che dubito quindi non probabilmente non sei sovralenato quasi nessuno è sovralenato se non sbaglio c'era una frase di mieta che diceva il sovralenamento è sottostimato in pista e sovrastimato in palestra e credo che la maggior parte delle persone sovrastimi parecchio il sovralenamento cioè appena uno sente stanco non ha dormito una notte ma sono sovralenato il cazzo dopo che non dormi per mesi sei sovralenato spiegazione dell'atp e quanti minuti ci vogliono per rigenerarlo e cos'è non è google ragazzo mio apriti un libro per queste cose sono determinato allenamento esempio 5x5 partire col carico alto porterà ad una progressione minore nel tempo ma sicuramente avremo sempre sì ho capito no è un'ambizione che mi viene fatta spesso questa del partire magari troppo troppo conservativo nei 5x5 cioè ad esempio lo faccio partire dal a volte anche dal 60 per cento e in effetti è vero cioè le prime settimane non è che siano troppo allenanti a parte che puoi giocare con i recuperi però più in alto parti con una progressione più è probabile che duri poco cioè ok parti dal 75 80 per cento e la progressione si è già subito allenante però sei talmente al limite che è finita lì la progressione cioè difficilmente riesci a farla per cioè se parti dal 75 per cento direi che non vai oltre 80 da 5 metti che fai aumenti del 5 per cento dura tre settimane massimo un mese e con un mese ci fai molto poco poi ci puoi aumentare le ripetizioni poi calare le ripetizioni aumentare il volume tante cose però più parti al limite più è vero che allenante però meno dura la progressione se la progressione dura poco vai poco avanti cioè per dire anche il ciclo russo parte conservativo poi però ti dà una botta atroce partire leggero ti serve ad aumentare le probabilità di di sopravvivere al programma 5rpe 8 5rpe 7 5rpe 6 vai su e diminuisci vai su a rpe finché non trovi quel carico diminuisci sempre di più il buffer in ipocalorica è normale perdere massa magra e direi proprio di sì e purtroppo sì perché riscido fisso molto basso meglio non lo so non mi occupo di acqua minerale non mi sono mai informato scusa miglior metodo per calcolare la massa grassa e come influisce sull'allenamento e ti fai una applica certo faccio ecco sì aumenti però sono sempre aumenti molto al limite cioè più tu sei al limite più ovviamente devi fare aumenti leggeri però sei accumuli talmente tanta fatica che difficilmente magari arrivi lontano con la progressione cioè con l'aumento di un chilo e mezzo o uno e mezzo per 100 quello che è non non riesci magari ad arrivare troppo lontano quando magari partendo più conservativo saresti derivato un poco più lontano almeno io programmo così poi non c'è nulla di male nell'uccidersi da subito e trovare l'escamotage per continuare poi ognuno c'è il suo approccio in termini di guadagni muscolari pensi che sia meglio portarsi a buffer zero o tenersi un 2 in canna su un soggetto intermedio e se buffer zero non c'è particolari problemi il problema è non confondere buffer zero con cedimento cioè l'importante è non rimanerci sotto però buffer zero magari tutte buffer zero risultano un po tassanti dipende da che esercizio tipo nei mono articolari buffer zero chi se ne frega se tu invece fai buffer zero su tutti i fondamentali è più che altro un calo notevole di prestazione quindi eviterei cioè nei mono articolari ma è anche a cedimento per dire tanto lo stress è basso in uno stacco da terra diventa un attimo tassante ciao l'anrack dello squat fatto al contrario ce l'uscendo avanzando non è una minchiata sì perché a meno che non ti metti uno specchietto retrovisore e guardi dove vai devi per forza girarti e con dei chili addosso è sconsigliabile grazie a questa situazione si iniziano ad apprezzare molto il lavoro corpo libero rendendomi conto di avere una grossa credenza di forza potrebbe avere senso un 5 di lavoro solo sul corpo libero e beh fai di sicuramente di necessità virtù quindi mi sa che un sacco di gente sarà costretta a riscoprire il corpo libero purtroppo da un lato è sicuramente allenante cioè molte persone secondo me avranno anche questo questo ovvero scopriranno che tutto sommato di corpo libero hanno dei deficit cioè le persone ad esempio sui piegamenti a terra non è che se non li fai mai fare tanti numeri non è neanche così scontato su quattro corpo libero cioè io ad esempio una barra per le trazioni in casa ce l'ho però infatti anche un mese di focus sulle trazioni e non è da sottovalutare quindi corpo libero sicuramente ora purtroppo secondo me andrà anche persino peggio di come ora quindi meglio attrezzarsi per avere roba a casa come si fa a far coincidere un programma di powerlifting al giorno della gara e beh è lì che ci sta ad avere un coach o qualcuno che sape programmare perché se no ha tentativi a grandi linee cioè come si fa studiando così è un po difficile cioè il picking deve appunto combaciare col giorno della gara fare esercizi in mobilità prima di fare squat può essere utile o meglio farli in altri momenti e dipende che cosa intendi per mobilità cioè se sono esercizi di mobilità perché a freddo non riesci a metterti in squat diventa problematico perché si devi fare se intendi mobilità nel senso che di tuo sei mobile vuoi migliorare la mobilità va fatto dopo perché se no ti bruci l'allenamento nella palestra dove mi alleno non fanno fare gli stacchi comunque qual esercizi consiglio di sostituire gli stacchi stacchi pesanti rompendogli il pavimento o stacco rumeno però l'idea di rompere il pavimento non mi dispiace in alternativa davvero lo stacco rumeno meglio che niente stai facendo un sacco di mobilità per un motivo particolare mi annoio motivo quindi avere qualche obiettivo in più non è mai male e più che altro vorrei fare la verticale impressa quindi se sono legato di femorali non ci riesco quindi stretching di femorali per avere una base di appoggio un pochino più salda però ho notato che è relativamente divertente cioè riuscire di tipo toccarsi la tibia con la testa quindi lo continuo anche perché è una cosa diversa dal solito ciao 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 rpo se se facessi 5 rpo allora se facessi 7 rap raggiungendo a buffer 0 poi uso quel valore sempre e no perdi tutto il valore dell'usare le rps devi fare il 7 rm per capire dov'è il buffer 2 snaturi totalmente programma ipertrofia muscolare meglio cedimento buffer grandi linee buffer e pensavo volessi dedicarti al well no sinceramente non cioè è bello da vedere sicuramente anche da fare ma non avrei la testa per mettermi ci perché troppi squat io non amo lo squat quindi dovresti passare le mie giornate a fare squat e non ne ho decisamente voglia ipertrofia 6x6 con 30 secondi di recupero va bene e usi tipo il 40% non è un gran investimento quindi sconsigliato sinceramente cioè c'è di molto meglio che per l'ipertrofia anche perché è stato dimostrato da tutte le parti che quello che conta è il set per rap per chili cioè ok rendere l'allenamento difficile usando dei recuperi bassi però vai a usare chili della chicco tendenzialmente quindi è penalizzante a meno che tu non vada a usare tutt lunghissimi però non credo sia il caso visto che fa in 6x6 quindi evitabile ginoide molto magra ma culo gigante lavori metabolici o meglio basso volume alti carichi e beh a parte che non credo molto nel allenamenti per conformazione fisica però sinceramente dipende più che altro da come rispondi te nel senso nelle donne a volte l'alte ripetizione ho visto entrambe le situazioni quindi ci sono donne che lavorando lattacide diciamo metabolico sono diventate grossissime tipo conoscevo un sacco di ragazze che si sono date al crossfit e mentre i ragazzi che facevano crossfit sono diventati sempre più secchi lavorando così tanto in metabolico quelle sono diventate enormi allo stesso tempo molte donne invece che lavorando in metabolico ritenzione idrica manetta cellulite quindi bisogna vedere più che altro te come reagisci lavorando metabolico o altro così in base alla conformazione fisica non si può dire vedi te cosa ti dà il miglior effetto estetico più che altro ovviamente parlo soprattutto nelle gambe però in cat meglio aumentare l'output o diminuire l'input che sembra una presa usb no allora dipende da cosa hai più tu voglio di fare nel senso io piuttosto che aumentare l'output che implica fare cardio sto a dieta una settimana non mangio una settimana perché odio fare cardio però scherzi a parte in certe situazioni mi rendo conto che non potendo scendere sotto certi livelli di dieta per forza di cose devi aumentare l'output quindi cardio di qualche tipo una combo delle due è la versione più semplice perché continui a mangiare ma allo stesso tempo bruci di più o uguale cioè piuttosto che stare a 1500 sto a 1800 ne brucio a 300 è normale perdere la curva lombare quando vado profondo nello squat me l'avete chiesto in 15 anche oggi e ho risposto tra l'altro comunque sì è normale più scendi più perdi la curva lombare in questione proprio di mobilità più scendi più retroverti tanto è diverso programmare uno scarico allenamento in ipocalorica cambia niente se sei in ipocalorica comunque ti devi fare la metà del volume che fai in una fase allenante quindi se in iper fai 10 serie scarichi facendone 5 in ipo ne fai 5 scarichi facendone 2 3 quindi è tutto rapportato a quello che fai durante la fase allenante non dipende dalla dieta cioè quindi più volume fai più alto sarà il volume nella fase di scarico però in linea di massima tanto quello che comanda nella fase di scarico è l'intensità quindi non dovreste avere particolari problemi dunque avrò risposta a tutto vediamo sì direi di sì invito nuovamente a rompere il pavimento nella palestra dove non ti fanno fare stacco così imparano così si aprivano un panificio invece che una palestra esercizi sconsigliati per problemi all'anca spero tu non abbia l'anca a scatto e sconsigliati beh tutte le forme sicuramente di squat stacchi sumo quindi tutti quegli esercizi che prevedono troppa apertura di anca principalmente poi dipende qual è il tuo problema di anca però tendenzialmente sono quelli gli esercizi da evitare cioè quelli che prevedono troppa apertura o al contrario nel caso tu abbia problemi per conformazione dell'anca ti dà problemi di esercizi a gambe chiuse quindi con le gambe più aperte cioè tutto dipende da conformazione di anca e quali siano i tuoi problemi anca a scatto no davvero sapevo è un mio incubo l'anca a scatto no comunque scherzi le persone che andano anca a scatto si moltiplicano ogni settimana su questa pagina comunque si no in generale sui problemi articolari di questo tipo la risposta più semplice è a parte gli scherzi trovare semplicemente gli esercizi in cui non hai fastidio che è un po' andare a tentativi però nella maggior parte delle volte è la cosa che funziona di più consigli per schede ipertrofia massa così fa molto ricerca su google qualche esercizio per migliorare la mobilità toracica si ci arrivo li pubblicherò ora ho già girato il video di lunedì che sarà per la mobilità delle spalle sicurati e ora farò di nuovo mobilità per le squat comunque ora mi sto approfondendo mi sto approfondendo di brutto la yoga per lo più perché sono lì gli esercizi di mobilità più fighi secondo me quindi ora nelle prossime settimane pubblicherò un botto di esercizi di mobilità domandona ma che cacchio ti lascio col dubbio anche io settimane fa me lo sono dovuto andare a cercare ti si apre un mondo secondo te per considerarsi un essere umano quanti chili di lavoro in trazione adipice vorrebbero 65 kg di peso guarda una cosa che mi ha depresso tantissimo è che l'altro giorno cercavo un ranking per le trazioni in un braccio e scoperto che l'elite cioè per statistica quelli che fanno più trazioni in un braccio si aggirano intorno alle 15-20 quindi a questa domanda non mi sento di rispondere più del tuo peso corporeo a questo punto direi purtroppo di deep almeno il peso corporeo poi dipende un sacco di persone mi chiedono ma secondo te quanto devo sollevare boh cioè non c'è un minimo più di quello che sollevavi la settimana scorsa è un buon modo per allenarsi perché cioè i parametri poi dipendono c'è chi i classici due bodyweight di squat uno e mezzo di panca due e cinque di stacco li raggiunge in un anno c'è chi li raggiunge in due c'è chi non li raggiunge quindi non si può dire se si vuole proprio allenare i tre big beh non te l'ha prefitto il dottore riunire qualcosa al corpo libero come posteri un allenamento dipende cosa vuoi fare al corpo libero perché anche oggi vedevo le domande c'è molti mi dicevano non posso andare in palestra mi alleno stile calisthenics sti cazzi non è proprio la stessa cosa passare da sala pesi a fare dei front lever delle planche quindi corpo libero indicativamente spesso si intendono trazioni e dip alle parallele quindi semplicemente già introdurre al posto degli stand cioè al posto del military degli stand push up come esercizio per le trazioni ti fai solo trazioni verticali e poi che altro dip a sostituire la panca insomma semplicemente cambiare gli esercizi classici con esercizi a gruppo libero è un buon modo è un buon modo volevi farci delle gare e allora non so che tipo gli esercizi di cioè fanno le gare di endurance con il peso tipo se non sbaglio di trazioni fanno un max rep con 30-40 kg attaccati quindi fare un max rep con 40 kg devi avere un massimo alveolo alto anche di dip mi sembra se sui 40 kg e cazzo devi macinarne di rap con quel peso Corby Cbity nuovo big del PL vedo sempre più competizioni con questo esercizio no l'hanno sempre fatto i russi ogni tanto impazziscono e fanno il massimo di curl con 160 kg tra l'altro robetta però no in Russia si vede spesso fare ste cose sinceramente è follia a meno che non tu sia un omone di 180 kg come se tu facessi un curl con 50 alla fine 32-48 esatto bravo quindi per fare un max rep di 32 kg di trazioni cazzo devi almeno il tuo peso corporeo devi farci un po' di colpi per considerarti forte tipo anche il muscle up fanno il muscle up con sovraccarico non è affatto scontata come prova per quello dico soprattutto se puoi farci legare non c'è un minimo perché entri in come dire entrando in competizioni con altri nessuno punta al minimo puntano sempre al massimo per quello non ha senso guardare a un minimo a meno che gare un RM anche cioè di dip fanno almeno 100 kg quindi più il peso corporeo ovviamente quindi sono chili considerevoli poi per le prime gare io non mi starei a preoccupare di quanto devo fare quanto devo non fare cioè provi vedi ti fai già un'idea Sarice ha affrontato il mondiale di schiaffi sì no non credevo fosse suo che persona ha modo divertente comunque sì ho visto quel pazzo russo che praticamente sposta trattori a schiaffi prove di forza un pochino eccessive però dunque vediamo se trovo qualcosa dal mio repertorio in attesa di ah vediamo oggi veramente una serie infinita di domande non trovo niente di particolare no in realtà siamo sempre su domande sui programmi o difetti tecnici però ragazzi difetti tecnici passano sempre attraverso semplicemente a pratica 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 cioè vedo che c'è sempre la ricerca del quale esercizio devo fare per non scolare quale esercizio che devo fare per migliorare la panca cioè non c'è l'esercizio per migliorare una determinata cosa c'è semplicemente pratica 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 cioè come dire che esercizio devo fare per migliorare lo snatch snatch che esercizio cioè semplicemente passa attraverso la pratica come dire che cosa devo fare per migliorare il piano flonare più piano quindi tutte le volte sono in difficoltà e non rispondo a queste domande perché non c'è la risposta cioè si cerca sempre la non dico la scorciatoia però la soluzione magica quando in realtà la soluzione magica è aumentare la pratica quasi sempre devo mettere che ho anche ricevuto un sacco di domande sullo stretching passano attraverso l'Iban questa non me la sono persa ah sì esatto pagami mandami video se no sì no purtroppo anche oggi devo mettere che ci sono rimasto tre virgolette male perché ieri ho fatto le storie con le mie ho fatto delle schede tre virgolette prestampate che non è ovviamente prestampata dalla palestra cioè ho ragionato ho lavorato qualche settimana prima di pubblicarle perché ho detto in effetti non tutti possono hanno voglia di farsi per forza un coaching online però magari vogliono una scheda ho detto faccio queste schede da pubblicare così la gente se le compra si compra solo la scheda senza doversi sussare il sottoscritto e oggi ci sono rimasto perché uno mi ha detto potevate farle gratis ho detto oh cioè allora faccio più praticamente un video al giorno ho tipo 350 articoli sul sito che sto facendo rifare e rifaccio tutti gli articoli ci sono almeno tipo 20 schede gratis sul mio sito tutto gratis bisogna fare cazzo non saremo un pochino troppo pretenziosi problemi sullo stacco nella panca una possibile causa per essere altezza del rack e guarda le panche malfatte sono una rovina per per la tecnica della panca tipo nella palestra dove vado io il supporto è troppo alto io non riesco a fare panca già non ho più voglia di fare panca avere lo stacco così alto praticamente io più che una presa media non posso utilizzare perché proprio non riesco a a staccare il bilanciere senza perdere le scapole altrimenti quindi se già solo che trovare una buona panca fatta a una buona altezza con dei buoni supporti è un è un buon risultato perché è impossibile cioè o vai in una palestra stile crossy dove effettivamente ti metti il support dove vuoi tu o diventa veramente un problema però non avere o hai qualcuno che ti stacca ogni singola ripetizione o devi purtroppo limitarti ad una presa più stretta e non è allenare la panca al 100% per non parlare delle panche con i supporti alti e troppo basse che ti ritrovi con le ginocchia sopra a livello dell'anca cioè praticamente fai una panca di merda però dettagli perché vuole seguire nell'elemento di costruzione di massa e seguite definizioni quello potrebbe essere gli integratori giusti non ho idea cioè tu integri perché ti manca qualcosa a priori non ti saprei dire cosa integrare cioè lo dice la parola stessa integrazione integra quindi io sono abbastanza contro l'integrazione random di sostanze a caso se non se ne ha bisogno la Technogine le fa pure curve invece corizzontali sì sì non mi ricordo le Technogine quali ho provato però in generale ultimamente ho provato delle palestre panatta forse non vorrei criticare marche che poi non sono loro però andavo in una palestra in cui c'era proprio la panca bassissima col supporto non regolabile e non non riuscivo a far panca praticamente facevo panca per terra ogni volta che staccavo perdevo le scapole purtroppo so che diventa un problema fare panca in queste condizioni io infatti quando facevo le gare avevo la mia panca con quei supporti avevo anche il mio bilanciere guai se qualcuno prendeva quel bilanciere era un po' psicopatico però da un certo punto di vista se tu devi farci delle gare o comunque ti alleni in quell'ottica è importante avere l'attrezzatura buona è per questo che alla fine la gran parte delle persone si allena a casa perché se devo farmi mezz'ora tutti i giorni per andare a cercare una panca decente mi rompo i coglioni abbastanza facilmente però purtroppo l'attrezzatura valida è difficile da trovare chi è che mi tempesta di mail ok scusate l'attrezzatura valida anche solo appunto trovare una palestra in cui riuscire a far stacco sembra un'utopia molte volte perché ti rompono il cazzo che gli rovini il parquet e cosa apri a fare una palestra con il parquet se non vuoi cioè hai mai provato a vedere le palestre in giro come sono fatte però no senza parte non non c'è ancora la mentalità ad avere l'attrezzatura decente perché costa dunque ora stanno poi chiamerò un esorcista vediamo se mi ricordo qualche domanda carina che ho ricevuto oggi ah sì no ho visto ah perfetto a proposito di attrezzatura se volessi imbastire un omogin mi consigli qualche marca particolare beh devo ammettere allora l'unica l'unica marca di cui effettivamente so come lavorino sono la power gear che ho sempre visto persone utilizzarla anche noi quando avevamo la squadra qua a Genova avevamo tutta roba power gear effettivamente è una buona marca si può ovviamente cercare qualcosa di più low cost dipende anche da quanto uno sollevi cioè io ho due supporti panatta da 90 euro nel box vanno benissimo per fare squad per fare panca cioè non è che ci serva per forza il rack da 300 euro dipende tutto da quello che cerchi da quanto vuoi spendere anche la king's box ho visto ha della roba figa tipo l'altro giorno vedevo un po' sbavando una sorta di sbarro per le trazioni credo sognano gli unici ad averla che sparisce nel muro cioè un supporto che tu tiri fuori blocchi e durante il giorno diciamo non vedi la sbarra per le trazioni e la tiri fuori solo quando ti serve che è una figata devi avere il muro bello spesso mi sa perché se no porti via tutto però la king's box della gran bella attrezzatura devo ammettere anche quella costicchia però non so se io mi fiderai di un rack da 100 euro perlomeno non mi ci allenerei tranquillo cioè meno spendi più questa roba ha difetti quindi tanto vale spenderci bene almeno per il rack poi bilancieri cose così ti arrangi in qualche modo però nel rack spenderei altre marche ah vabbè la Certosus anche la Certosus è una roba stra di qualità però come sempre la qualità costa oppure vai da un fabbro come ha fatto un mio amico che si è fatto fare una panca per il sidro dal fabbro vai dal fabbro e gli dai le misure di quello che ti serve e in via ipotetica potresti cavartela con meno però dipende dal fabbro però sì in questo periodo mi sa che chi vende un gym farà un sacco di soldi o chi vende libri di calisthenics mi sa che un sacco di persone passeranno al calisthenics per evitare il suicidio comunque è una domanda che mi hanno fatto in tanti oggi dopo quanto smetto di perdere cioè dopo quanto comincio a perdere risultati facendo stando fermo purtroppo dopo un paio di settimane comincia a perdersi massa muscolare e sicuramente feedback con i carichi ancora prima basta una settimana però dopo due settimane comincia il degrado fisico quindi bisogna cercare di tenersi allenati anche solo a corpo libero perché se no effettivamente il tuo corpo si accorge che tutta la massa muscolare che hai non gli serve e comincia a perderla allora 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 di cosa possiamo parlare ok snatch a corpo libero no proviamo con questo cosa ne pensi del metodo coniugato no allora me lo chiedete tutte le volte a parte che cosa ne pensi del metodo x è una domanda che mi lascia spesso un po' come dire cosa rispondo perché è complicato dare la mia opinione su un metodo il metodo coniugato lo sto riscoprendo tanto in questo periodo addirittura volevo fare la certificazione del website però visto che ti spediscono la roba nel 2020 dover aspettare un dvd dall'america per fare il corso mi sembra un tantino desueto quindi ho lasciato perdere rimane in dogana sei anni come minimo visto il periodo però secondo me il metodo coniugato ho risentito tanto di questa diffusione del metodo distribuito degli ultimi anni però è tanto stato valutato io lo uso tantissimo con chi si allena in ottica a forza generale con chi fa preparazioni atletiche mi sto trovando benissimo quindi secondo me andrebbe molto molto rivalutato e tra l'altro vedo essere usato tantissimo dagli strongman ora sono un mese che rimando il video su come si allena Thor After ho comprato la sua scheda ero curioso del suo preparatore e anche lui fa un metodo coniugato è tantissimo usato dagli strongman quindi il metodo coniugato secondo me non è tanto da sottolotare rispetto al metodo distribuito quando pubblicheranno questo benedetto libro allora c'è stato un attimo un tagliolette cambio di programma uscirà sempre però dovremmo metterci a breve a fare un progettino interessante con un nuovo sito io stai facendo il sito però dovrei a breve cominciare a occuparmi anche di un altro sito che non so se posso fare ancora nuovo mio dirlo però non lo faccio nel dubbio quindi devo rimettere a nuovo un sito diciamo così su cui verrà trattato molto anche l'argomento a corpo libero e da lì abbiamo deciso di far partire il nuovo libro perché considerazioni d'alta voce visto che stasera come dire latitiamo un po' di domande e venderlo sul progett è molto generico cioè non avendo un pubblico diretto quell'argomento non vorremmo fosse un eccessivo flop che averlo saputo che scoppiava il coronavirus in realtà non avremmo avuto questo pensiero però no essendoci un pubblico diretto sull'allenamento corpo libero essendo un attimo complicato anche far capire la filosofia di questo libro abbiamo rimandato un attimo quindi è pronto lo sistemiamo dopo aver sistemato il nuovo sito durante lo stacco mi capita che la presa cede ok e rafforza la presa come col solito consiglio che do sempre ovvero hai due alternative se il tuo stacco è sotto dei bodyweight di peso quindi che so pesi 70 e siamo ancora sotto i 140 poi ti appendi alla sbarra e cerchi di stare appeso più che puoi di solito già quello basta 3-4 set volendo anche ogni allenamento se invece tempo di finire sì decisamente se invece il tuo stacco è un massimale più alto che ne pensi di metterlo coniugato l'ho risposto prima sei arrivato anche tardo di due minuti e dicevo se il tuo massimale di stacco è invece maggiore del 2 bodyweight circa ci sta ti metti lì con il 50% lo tieni in mano e cerchi di tenerlo in mano ok appunto allora ci sta a fare il lavoro che dice tu share ovvero metti il 50% del tuo massimale e tieni più che puoi se superi i 30 secondi aumenti tipo del 5% il peso utilizzato e così via affinché non chiudi 30 secondi cioè alla fine per migliorare lo stacco o lavori su come dire la resistenza nella mano o ti metti lì e fai dei gran stacchi dei blocchi però il rom dello stacco dei blocchi è troppo ridotto quindi non hai abbastanza tempo sotto tensione quindi consiglierei di fare quei lavori lì più di resistenza ecco tutte le volte che mi dite di salvare la diretta succede qualche casino un po' come dire cos'è Macbeth uno che va a teatro quindi se non si salva è colpa di Andrea sappiatelo conosce le misure della panca perfetta non me le ricordo più se non sbaglio so che deve essere alta da terra tipo 40 45 circa ma le misure di larghezza eccetera proprio non mi ricordo già Alessio secondo te più efficace la classica visione del PL è basata su volume o quella basata sulla ricerca della massima potenza su una linea di spinta che sia la più efficiente possibile e mi sa che è un po' unaifata questa che dopo aver letto che devi collegare le mani alla panca alla schienale della panca di cazzate non so che stiamo arrivando a livelli altissimi però no nel senso perché dividere le due cose cioè tu devi fare l'allenamento su la linea di spinta ottimale ovviamente cioè cosa vuol dire cercare la linea più efficiente possibile quella devi avercela tu non è che va cercata non è una cosa che devi cercare anche perché stiamo parlando di squat stacco e panca cioè una cosa che viene sempre sottovalutata è che non stiamo facendo weightlifting cioè nel weightlifting sono esplosive hai poco controllo sulla alzata se sbagli la traiettoria ti ritrovi il bilanciere che se ne va per i cazzi suoi nella panca il bilanciere lo controlli in ogni fase dell'alzata quindi anche se sei un po' fuori spinta certo magari ci fallisci il massimale però ci ritorni in spinta quindi la tecnica è data per scontata sta cosa che tu debba passare la tua vita ricercare la tecnica perfetta è una cosa veramente fuori di testa anche perché facendo così la gente si dimentica di caricare e ci troviamo un mondo di persone che fanno 100 kg massimale perfetti quindi il volume tu devi avere la tua ricerca eventuale di sta linea perfetta ma facendo volume perché altrimenti non ti alleni cosa ne pensi del metodo distribuito spero tu non ti rinviscali al libro no alla fine è una cosa che si è sempre fatta anche il buon chi era Bill Star lo faceva al suo distribuito con le giorni pesanti e medi-leggeri cioè pesistica bodybuilding è una cosa che si è sempre fatta quella di allenamenti pesanti e medi-leggeri anche Latfield se sbaglio è lui o non è lui non mi ricordo comunque non è niente di nuovo è una cosa che si è sempre fatta perché ha senso anche il coniugato è pesante e medio-leggero perché ha la giornata massimale ma la giornata esplosiva che è leggera quindi tutti i metodi a conti fatti sono distribuiti per lo stand training ha senso allenare i bicipiti direttamente? dipende da quanto tu voglia i bicipiti ha senso sicuramente cioè non vedo perché no in un allenamento full body come gestisci il riscaldamento se si devono fare più esercizi di forza lo stretching a fine allenamento ti fai il riscaldamento per ogni alzata cioè fai panca finisci panca ti riscaldi per lo squat fai squat ti riscaldi per le trazioni fai trazioni cioè per ogni esercizio bisogna riscaldarsi stacco con trap bar o con bilanciere va bene inserirlo come alternativa? assolutamente sì dipende poi dal tuo obiettivo però il trap bar è un'ottima alternativa a quello con bilanciere o viceversa appunto dipende da qual è il tuo stacco fondamentale però assolutamente sì va benissimo a tuo parere il look grip nelle trazioni può essere d'aiuto o dipende? no in questo caso secondo me non dipende non serve cioè look grip è usato nella pesistica quando fai uno strappo slancio o cose così però nelle trazioni se ti serve dover avere look grip per stare appeso vuol dire che a livello di presa proprio non ci siamo non ho mai capito come ci si scalda con le trazioni e io mi scaldo facendo trazioni ma perché dipende dal livello cioè se ne hai meno di 10 l'hat machine e poi comincia a fare trazioni se ne hai tante tipo io mi scaldo direttamente con le trazioni perché a corpo libero comunque meno del 50% il mio peso rispetto al mio massimale di trazioni quindi mi scaldo direttamente con quello ma quelli che si proclamano strength coach e scrivono strength è un problema la dice lunga direi che ne pensi della camera at bar o come si scrive da live icons no tutte varianti cioè alla fine più varianti riesci ad avere più riesci a spingere mantenendo la sanità mentale perché ad esempio quello che io occupativo facendo panca era panca 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 sempre la solita cazzo di roba il massimo che riuscivo a variare era ogni tanto la presa e quando facevo panca stretta mi sembrava di fare chissà che esercizio diverso invece che so stacco fai uno stacco con bilanciere uno stacco con la quadbar momento umiltà con le sue 31 trazioni bastardo è vero cioè se ne faccio 31 mi scaldo con le trazioni quindi dicevo se più tu hai bilancieri strani da poter utilizzare ben venga perché almeno lavori sul gesto ma con quelle piccole modifiche che dici oggi sto facendo un esercizio diverso con la panca sta cosa è già più difficile da fare libro aprile no come dicevo prima è un attimo posticipato perché prima dobbiamo sistemare un sito che farà poi da ponte per la pubblicazione del libro e di altre schede diciamo che è ancora tutto come dire ci sono un sacco di cose in ballo quest'anno mani e piedi freddi dopo qualche ora dall'allenamento potrebbe essere overreaching overtraining spero che youtube mi riconosca la faccia che ho appena fatto come copertina del video non ho idea come dicevo prima non si può dare sempre la colpa all'overreaching no non mi sembra neanche tanto un sintomo particolarmente normale ad essere onesto però non ne ho idea se non è un sintomo comune cattiva circolazione non lo so non ne ho idea ecco ti dico stamattina ho provato alcune serie di pull up con un grip giusto per vedere mi hai provato prima e mi è venuto normale chiederti appunto per qua la fambraccia in tirata tutto come dicevo dipende da quante trazioni fai se fai trazioni a corpo libero la presa non dovrebbe essere mai un problema un qualcosa di limitante perché cioè il restare appeso dovrebbe essere la parte ovviamente costante la parte a cui non devi pensare se hai un problema visto che stai facendo un esercizio in cui sei appeso allenati per rimanere appeso data le difficoltà dell'azzo olimpico utilizzare come alternativa snatch clean and jerk con kettle bello ghiri e dipende alternativa per che cosa oddio ogni settimana ho il tuo aggiornamento sul canale a bere sto avendo tanto vale aggiornarmi via mail no dicevo dipende perché devi avere l'alternativa alle snatch clean and jerk da un lato sicuramente sì ad esempio se non sbaglio il piccolo Andy Bolton faceva un bot di swing con la ghiglia da 90 kg quindi sì sono sicuramente gli esercizi balistici che ti aiutano però non mi viene da dire che siano varianti ovviamente non in ottica powerlifting in ottica powerlifting le kettlebell sono abbastanza inutili per dire ho voglia di fare esercizi come quelli ma non sono in grado di farlo allora va benissimo usare le kettlebell io un massimale di 275 che cazzo chi li stacco complimenti secondo te è possibile arrivare a 4 volte proprio peso da natural beh a meno che tu non ti bombi e non lo dici non ci sei tanto lontano quindi direi sì di sì ovvio manca una cinquantina di chili più o meno però 3 volte e mezzo già è un ottimo risultato quindi sì se non sbaglio a 5 sono arrivati fammi fare il conto quanto sono arrivati di stacco 300 no no non sono arrivati a 5 però sì i più forti sono su quella su quella range di peso quindi ci sta 4 ho visto anche più di 4 e mezzo non mi ricordo nel dettaglio chi ha fatto che cosa però secondo me sì no è una scherzata ovviamente però no dai 50 kg sono tanti sono tanti però sicuramente ti ci puoi avvicinare military press con bilanciere o doppie kettlebell secondo te ci sono pro e contro di uno dell'altro ad esempio nel mio caso percepiscono rom maggiore con i kettlebell beh sicuramente chiunque percepisce maggiore rom col kettlebell perché è un rom proprio più ampio sicuramente un lavoro monolaterale serve serve monolaterale o come dire a braccia separate è un buon complementare per il bilanciere quindi venga cioè non è perché devono esserci sempre poi contro di norma se le usi entrambi meglio e ottica strana e conditioning allora assolutamente sì in realtà sono un po' sopravvalutate le kettlebell per il conditioning infatti tutto il corso che sto facendo ora di conditioning tutta la parte appunto di teoria sul conditioning c'è uno su una bici perché alla fine il conditioning non si fa con corpo libero kettlebell ma si fa appunto cardio o in effetti qualche circuito però un altro tipo di conditioning volerò se mai ne approfondiamo un'altra volta l'argomento devo finire il corso prima ho un buon decano da 6 euro che ci compro la la B-Wells la rotellina per fare addominali o tutto il kit di quelle cose di Goma di cui ho fatto il video stamattina giorno quale può essere una variante interessante dello squat con bilanciere guarda sono onesto non penso esistano varianti interessanti di squat con bilanciere io le odio tutte però no qualche box con catene l'unica cosa che non mi fa sognare di uccidermi quando faccio squat è tipo metterci le catene il il pin cose di questo tipo è un obiettivo realistico quello di aumentare il proprio massimale di overhead press a 60 kg 80 kg in 5 mesi considerando che non ho mai fatto spinta verticale guarda ti dico solo che mi sono fatto un culo così facendo lo small per prenderci 2 kg di military quindi prendere 20 kg di military è tipo come prendere 100 kg di stacco 120 anche di stacco o tipo 60 kg di panca non è proprio una cosa se in 5 mesi ne prendi 10 proprio c'è da stappare lo spumante allora compro quella la rotellina demon ce l'ho con la polvere sopra la mista controindicazioni nello stacco non è controindicazioni no se non che magari ti fai mano al braccio che supini perché lo fletti quindi se tieni la braccia ben tese no però molte persone alla fine hanno squilibri muscolari specie a livello di lombare quindi quella è l'unica controindicazione oh Dio non ce la faccio più il plank è utile come esercizio? sì povero plank perché il crunch allena in dinamico il plank in statico vanno fatti tutti e due o varianti è normale che dopo l'influenza 6 giorni di stop ho perso 4 kg sui massimali faccia fatica a fare il volume che facevo prima assolutamente sì sei stato fermo quindi poi dipende anche che influenza hai avuto il coronavirus o come cioè come hai gestito l'influenza quindi 6 giorni di stop stando male ci sta a dover ripartire cosa ne pensi dello squat alla Tom Blutz? ovviamente come commentare hai quindi gambe strette saltano via i quadricipiti molto pesante variante ipertrofica diciamo come variante per l'ipertrofia ciao Ale progettante fantastico e questi in realtà sono super grazie grazie troppo troppo gentile e tornando al plaz sì beh è tosto fa molto tensione continua pesante però è molto quad dominant quindi sicuramente se cerchi un esercizio una variante di squat per i quadricipiti ha più senso che il dildo squat mi ha provato il juggernaut 2.0 mi ispira molto è carino molto carino l'ho fatto fare un ragazzo che seguo ho avuto buoni risultati e non mi piace nel suo caso andava bene perché aveva una frequenza relativamente bassa e lui faceva preparazione atletica anche perché il juggernaut parla tanto di prestazioni atletiche alla fine non lo farei magari in ottica powerlifting o lo riadatterei un attimo però un bel programma vediamo ancora 5 minuti calo drammatico della prestazione dopo poche settimane che si è raggiunto un rigor personale opinioni? beh magari quella forma di picco è normale raggiungere un picco e poi calare la prestazione tipo il massimale che fa in gara è il massimale e basta cioè non è che puoi sempre avere quella apprezzazione cioè se programmi bene in realtà ci sta ad avere una fase di picco e stop curiosità quanti articoli nuovi pubblicarei sul sito nuovo quando uscirà? oddio ho già 30 articoli pronti più o meno ho riscritto vabbè la mia idea è quella di scrivere come si fa ogni esercizio con tanto di video e poi riscrivo la gran parte degli articoli che ho pubblicato negli anni un lavoro lungo però secondo me ne vale la pena domanda stallo nella military press chi è che non è in stallo nella military press non riesco ad andare oltre i 5 rep con 40 kg non riesco a sentire bene la spinta cosa posso fare? guarda ti do due alternative e o ahimè ci sta abbassi il carico tipo vai a 30 kg e fai una marea di volume ad alte ripetizioni cosa che paga nel military press o vai a lavorare solo a singole e anche quello paga nelle buona serata buona serata buone trazioni anche mi raccomando falle bene che poi voglio voglio il video dicevo military press ti fai delle singole che anche quello ripaga tantissimo nelle trazioni quando avevo più o meno il tuo stesso range di lavoro quello che mi aveva dato tantissimo era il metodo delle 20 singole perché singole 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 e nel lento avanti come dico sempre cioè è l'unico esercizio in cui devi abituarti proprio a spingere la stecca dall'inizio e lavorando solo a singole sicuramente impari a farlo al meglio quindi o tanto volume o tante singole singole pesanti o 43 kg sì guardati sul mio sito c'è ancora il metodo delle 20 singole o c'è sul libro se hai project strength e segui quello te lo consiglio o fatti una cosa tipo lo small sobria leggera e se vieni a Palermo ti affrono eh guarda ci verrai volentieri speriamo per settembre ottobre di riuscire a combinare qualcosa ora purtroppo faccio più il seminario di Bari e decisamente mi fermo un po' per lo stress di organizzare tutti questi corsi un po' per l'ovvia situazione in cui siamo al momento quindi darsi una calmata anche per i giri potrebbe aiutare figurati ultimi minuti la campana suona inesorabile qua risposta è tutto 6x6 di sala si possono sostituire le dip se vuoi se ho il libro trovo cose aggiuntive negli articoli bene il contrario sicuramente sì cioè se hai gli articoli nel libro li ritrovi iscritti tutti il contrario al momento no è in quarantena Alessia oramai no non scherziamo ragazzi non sono ipocondriaco però potrei uccidere il vicinato se finisco in quarantena quindi ci vediamo ogni mercoledì intanto abito vicino al carcere quindi ci vedremo tutti in diretta comunque da qua vicino i fermi nello squat quando come variante se hai problemi magari di uscita dalla buca cose di questo tipo o retroverti durante la chiusura nelle palestre come vedi kettlebell a casa 5x5 perché 5x5 però ci sta se hai dei kettlebell ben venga il top serve averci ricomponibili però corpo libro kettlebell la nonna basta sollevare cose e via che libro? il mio libro si chiama project strength il canale perché ci serve un libro a riguardo cioè Alessio mi fa un esempio di serie AMRAP applicate ad un esercizio come stimolo metabolico e non è che si può fare un esempio di AMRAP prendi un peso e ci fai il massimo numero di ripetizioni possibili non è figurati Andrea non ci sono esempi l'AMRAP per sua natura lui stesso ti spiega cosa devi fare il massimo numero di ripetizioni possibile e tornando grazie e buona serata figurati quindi davvero 5x5 magari in molti casi per il kettle può essere poco quindi ti consiglierei magari di fare lavori più metabolici circuiti altre ripetizioni poi dipende dai kettlebell che hai però va benissimo qua mi sa che ho l'ultimo minuto ce l'ho ok bravo allora puoi restare sulla diretta siamo all'ultimo minuto se avete domanda finale benvenga ora me ne arrivano 20 se no niente ragazzi con chi viene al corso ci vediamo domenica a Napoli sperando che non chiudano il mondo da qui a domenica cosa che devo ammettere mi preoccupa un po' ti facevo più preparato spesso non sai rispondere o rispondi a metà uh hai ferito i miei sentimenti sarà perché non è diretta e voglio rispondere a tutti ma io ti voglio bene lo stesso e ti perdono per questa affermazione chi è questo non lo so Antonino Ando ti sei fatto un nemico per tutta la vita signori vi saluto saluto anche Antonino e le stronzate che ha detto ci vediamo come dicevo Napoli e se no ci vediamo ci vediamo ci vediamo mercoledì prossimo quindi buona serata ciao a tutti ciao a tutti